Le presenze turistiche in queste vacanze natalizie sull'isola d'Ischia, primi bilanci con i primi dati. Franco Di Costanzo, com'è andata quest'anno? Sicuramente c'è stato un calo, però quello che ho letto oggi su alcuni giornali locali mi ha lasciato perplesso perché naturalmente non è un calo, questa è una mezza tragedia e forse già ci dà qualche segnale sulla stagione 2018, anche se non vogliamo essere in modo assoluto pessimista. Forse dovremmo dare un'altra interpretazione, certo se abbiamo avuto 10.000 sbarchi in meno rispetto all'anno scorso vuol dire che qualcosa non ha funzionato in questo momento. A che cosa possiamo imputare questo calo? Non certo credo solo al terremoto. No, sicuramente tutta una serie di fattori che sono negativi, il terremoto che naturalmente ha fatto venire meno diversi gruppi che erano prenotati per Capodanno. Poi naturalmente il tempo che non ci ha aiutato in questo frangente, mentre l'anno scorso c'è stato quasi sempre bel tempo e poi naturalmente, ma questa è una cosa vecchissima, la completa mancanza di programmazione per il periodo invernale se lo si vuol fare questo turismo invernale, se non lo si vuol fare, non lo facciamo, non è una tragedia per nessuno rimanere aperto 3 o 4 giorni e poi dover purtroppo richiudere. Se non si può fare, non si fa. Se si deve fare però lo si deve fare sicuramente con altra maniera e con altri numeri non possiamo continuamente andare avanti con questo squallore, per me queste feste sono state abbastanza squallide naturalmente ha anche aggravato la situazione e il cattivo tempo. E stiamo sempre lì a dire adesso che cosa facciamo? E quindi guardando al prossimo Natale abbiamo 12 mesi davanti per poter fare che cosa? Ma secondo me il discorso di Natale è un discorso un po' difficile si potrebbe, se partiamo adesso, cercare di programmare un pochino il prolungamento della stagionalità portarla eventualmente fino alla fine di novembre, all'inizio di dicembre poi dopo un po' spezzone tra Natale e Capodanno e poi dopo iniziare un'altra lotta al mese aprile però bisogna iniziare adesso e seriamente, bisogna cominciare a farsi sentire in giro per esempio io tutte le mattine quando apro RDS, la radio, mentre vado in albergo sento sempre il messaggio rimini termine, rimini turismo cioè non è possibile che noi non ci facciamo mai sentire nessuna parte questa non è programmazione turistica teniamo conto che Ischia ha 36.000 posti letti e forse anche qualche d'uno in più teniamo anche conto che per riempirli stiamo facendo dei prezzi che sono incredibili cioè non esiste in nessuna parte del mondo pur di farli venire a Ischia ma questo naturalmente va a danno delle aziende e a danno anche del personale è il solito discorso che faccio già da tanto tempo se vogliamo sederci tutti quanti a un tavolo e incominciare a programmare seriamente le stagionalità è un conto se poi vogliamo continuare ad andare avanti così ognuno si assume le sue responsabilità grazie a tutti